Con vivo piacere che inauguriamo questo canale TV, un progetto in collaborazione con l'Associazione Vibrazioni Lucane, che è Rapolla Web TV, un progetto attraverso il quale vogliamo raccontare qual è il lavoro dell'amministrazione, quali sono i progetti che vengono realizzati e quindi dare la possibilità al cittadino di vivere quotidianamente un rapporto continuo, costante con l'amministrazione, anche perché si possa poi dare un contributo. Un'amministrazione è l'attività amministrativa che vuole essere partecipata, che vuole essere trasparente, che vuole essere aperta al confronto e al dialogo con i cittadini. Sicuramente questo canale web, che riprenderà tutti i progetti e tutte le iniziative che si svolgeranno nella nostra comunità e che saranno il frutto di un lavoro dell'amministrazione, ma non solo di una collaborazione con il mondo dell'associazionismo che opera nella comunità e con tutti i cittadini che vorranno dare un contributo, avremo l'occasione di promuovere ciò che stiamo realizzando e magari avere anche la possibilità non solo di confrontarci con i cittadini, ma per far sì che anche i nostri concittadini che vivono magari in altre regioni in Italia, i nostri concittadini che vivono all'estero possano avere questo contatto diretto con l'amministrazione e con la comunità e possano appunto verificare quotidianamente quello che è il lavoro che viene realizzato. E questo è un orientamento importante dell'amministrazione comunale, una scelta forte, vogliamo che appunto il comune possa essere veramente una casa di vetro, le attività possano essere verificate quotidianamente e stiamo realizzando anche altri progetti che appunto sono dei progetti tra di loro coerenti, anche con il progetto WebDV, un'altra per esempio iniziativa che inaugureremo molto presto è questo nuovo link sul sito del comune, attraverso il quale i cittadini potranno direttamente, autonomamente, entrare nella casa comunale, entrare negli uffici, stampare da solo direttamente loro certificati, verificare le loro posizioni, fare domande e quindi interagire con il comune. Penso che un'amministrazione attiva e soprattutto un'amministrazione attenta debba stare al passo con i tempi. I tempi oggi richiedono che ci possa essere questo filo diretto con la gente amministrata perché non tutti hanno la possibilità di venire qui in comune e quindi magari anche comodamente da casa verificare ciò che si sta facendo e magari dare anche il contributo critico ma spero soprattutto costruttivo. E con soddisfazione devo dire che questo progetto appunto propostoci dall'Associazione Vibrazioni Lucane e devo dire che con soddisfazione oggi è un risultato concreto e sono sicuro che faremo veramente tante cose assieme e a partire da oggi si apre una nuova opportunità, questo canale web nel quale ci racconteremo e spero avremo la possibilità di far apprezzare le bellezze della nostra comunità anche a tutti coloro che non ci conoscono e che magari tramite internet potranno accedere a questo canale web e scoprire le bellezze paesaggistiche, storico-culturali, agroalimentari della nostra comunità e anche del territorio del Vulte perché ci sono tanti altri comuni che hanno realizzato il progetto e quindi ci potrebbe essere anche questo coordinamento tra i varienti comunali, questo sistema di collaborazione perché penso che il messaggio più importante è che i sindaci possano lanciare un messaggio che va oltre il campanile. Noi abbiamo un territorio straordinario che è il territorio del Vulte, dobbiamo avere la capacità di fare sintesi ma soprattutto di creare occasioni di valorizzazione non dei singoli comuni ma di valorizzazione di un intero territorio che è straordinario e che troppo spesso è stato anche vittima forse di qualche soppruso e di qualche ingiustizia. Allora questa è l'occasione giusta per parlare con i cittadini e io aggiungerei anche che è l'occasione per raccontare ciò che si fa in realtà perché sappiamo bene a volte anche le attività, le iniziative vengono riportate fuori in maniera distorta. Allora avere la possibilità di lavorare e anche di raccontare ciò che si sta facendo, di portare fuori i progetti così come realmente vengono realizzate e quindi può essere l'occasione giusta per comunicare con la comunità che io ho l'onore assieme agli altri amministratori di amministrare.